Buongiorno, sto facendo la mia passeggiata mattutina su al parco, ma fra poco andremo a fare un pane, un pane di segale, quindi vi aspetto fra un pochino a casa mia per l'impasto di questo pane di segale. Ciao ciao! Ciao a tutti, allora voglio usare questa ferrina di segale che era in scadenza, quella che ho comprato quest'estate in Alto Adige, della Ripper, quindi voglio usarla, se no poi non finire che la devo buttare, l'ho setacciata, quindi ho controllato, è in ottima forma. Allora, sapete che la segale va sempre tagliata, perché se no è difficilissima da lavorare, rimane molto appiccicosa ed umida, quindi io l'ho tagliata con un po' di zero, se volete anche con la uno, visto che ha pochissimo glutine la segale, quindi è sempre meglio tagliarla per poter lavorare meglio l'impasto. Ok, ho miscelato le farine, ho messo un po' d'acqua, io ne ho messa 400, poi vediamo alla fine se ce ne vuole un goccino di più o un goccino di meno. Ci metto il licoli, il lievito madre, ne metto 90 grammi, metto e continuo a mettere acqua e giro semplicemente con un cucchiaio, in questo modo. Ok, continuo a girare, mettendo ancora acqua. Non vi consiglio di farlo con la planetaria, perché essendo così appiccicosa la farina di segale, è meglio farla con un cucchiaio a mano. Sul mio canale trovate anche altre ricette di pane di segale, anche i classici panini della Valpusteria e della Valle Aurina, naturalmente. Qui adesso io farò un pane in cassetta, in modo che mi si mantiene, magari faccio le fette me le congelo. Allora, ho messo un cucchiaio di olio, metto anche il sale e metto un cucchiaino di malto. Se volete va bene anche il miele. Ecco qua. Quindi continuo ad impastare, aggiungendo, vedete l'acqua è finita, quindi ne ho messa 400, però comunque ci regoliamo, io direi che così basta. Giro con il cucchiaio, impasto con il cucchiaio e se non riesco uso la mano, il pugno così e impasto ancora. Naturalmente sapete che accelero, accorcio un pochino i tempi, però poi impassate per benino. E' stamattina la voce così, scusatemi. Continuo. A questo punto metto, questa è la trigonella, è un'erba che si usa molto in trentino e metterla nel pane. Ci metto i semi di zucca, altrimenti potete mettere dei semi vari. Io adesso ho messo quello che avevo in casa. Giro ancora con il cucchiaio. L'impasto è molto molto morbido e umido, quindi se voglio lavorarlo un pochino con le mani, mi aiuto con la segala e con la farina. Adesso sto usando una farina zero perché la segala è finita, l'ho usata tutta per l'impasto, però è preferibile usare la stessa farina, quindi la segala. Ok, adesso cambio il recipiente, ho oliato il recipiente e ci metto l'impasto. Lo copro e lo lascio lievitare. Naturalmente non aspettatevi il raddoppio, avendo poco glutine, non crescerà moltissimo, però aspettiamo 5-6 ore. Ed eccolo qua, vedete? Sì, è cresciuto un pochino, ma pochissimo. Vediamo, adesso lo metto sul piano di lavoro così vedo anche la lievitazione sotto. Ecco qua, è un po' meno appiccicoso però questo, questi l'impasto con la segala sono così, rimangono molto umidi. Adesso io lo piego, lo arrotolo per fare tipo un filoncino che metterò poi in una cassetta o naturalmente se volete farlo senza cassetta procedete come facendo un filoncino normale o una pagnotta volendo. Io voglio fare questo pane in cassetta adesso questa volta, quindi ho oliato il recipiente, poi vi metto la misura, è anche troppo grande questo, ce ne voleva uno un pochino più piccolo, però vedete ci va lento, sicuramente non uscirà fuori ma non importa. E l'ho fatto lievitare ancora 3-4 ore, eccolo qua. A questo punto in forno, perché temo che non cresca di più, in forno a 2,50, vi metto i tempi della cottura, 50 minuti di cottura a scalare. Come vedete non è male, però se l'avessi messo dentro un recipiente più piccolo sarebbe venuto un pochino più alto, ma non fa niente. Lo faccio freddare un pochino e poi taglio le fette. Qui è ancora caldo, quindi aspetto un pochino per tagliare le fette più sottili. Io me le surgelo, un pochino me le tengo al congelatore, sono ottime da mangiare naturalmente con lo speck formaggio, ma io ci faccio anche colazione, magari mezza fettina, mettendo un po' di burro e marmellata di mirtilli. Bene amici, vi ringrazio della visione, vi invito a condividere come al solito, a lasciare un like e ad iscrivervi al canale. Ciao a tutti e ci vediamo al prossimo video. Ciao!